Lo definisce il problema delle tre ferriere, la candidata sindaco della lista Trieste Aurora Marconi. Tre problemi ambientali che toccano aria, suolo e acqua, visto che riguarda l'area della ferriera di Servola, ora interessata dagli smantillamenti, i dragaggi in quello specchio acqueo e l'opzione dell'ipotetico laminatoio che potrebbe sorgere alle noghere. Non a caso questi punti sono i principali trattati dalla lista civica. Ci troviamo ad occuparci praticamente di tre ferriere, nel senso che dobbiamo occuparci con una certa buona dosi di preoccupazione dei residui della ex ferriera, nel senso che adesso naturalmente stanno smantellandogli i vecchi impianti e sollevando un grande polverone e grande fragore. Inoltre c'è il problema, connesso, dei dragaggi che devono essere fatti a mare perché naturalmente anche i fondali sono molto inquinati, duemila, tremila volte oltre la soglia certificato dal Ministero dell'Ambiente e non dall'ARPA e quindi anche lì potrebbe succedere un disastro se non fanno le cose a regola d'arte perché potrebbero inquinare tutto il golfo praticamente, da Sistiana fino a Capodistria e quindi sarebbe una cosa devastante per la pesca, per la meticoltura e per la bagnazione oltretutto. Per quel che riguarda il laminatoio delle noghere su un'estensione di 4.800 metri quadrati immaginate verrebbe fuori un mostro che essendo una lavorazione a caldo avrebbe delle emissioni fortemente inquinanti in quanto lavorerebbe a metano non a idrogeno che sarebbe molto più caro e sarebbe anche un disastro per gli abitanti che lì hanno costruito le loro abitazioni che verrebbero svalutate.